I primi regionali, i giuroni ed elit si affrontano le squadre del Pontassieve contro l'OS Settignanese. Diamo lettura delle formazioni. La formazione del Pontassieve. Numero 1 Landi, 2 Cappelli, 3 Bigliotti, 4 Cellai, 5 Sani, 6 Jacopetti, 7 Redi, 8 Castri, 9 Fattori, 10 Raggi, 11 Infantoni. In panchina a disposizione dell'allenatore signor Billi con numero 12 Vistrini, 13 Franchini, 14 Benvenuti, 15 Franca Lanci, 16 Maccari, 17 Magliocca. La formazione dell'OS Settignanese. Numero 1 Martilluzzi, 2 Bolognesi, 3 Saccardi, 4 Borghini, 5 Viciani, 6 Chiavone, 7 Durezza, 8 Chiappe, 9 Massa, 10 Spinello, 11 Vannini. In panchina a disposizione dell'allenatore signor Maurizio Romei con numero 13 Valdini, 14 Pini, 15 Sanchez, 16 Mazzoni. Arbitra l'incontro il signor De Iacobis della sezione del Valdarno. Buon divertimento. Buon divertimento. Buon divertimento. Grazie. Grazie. Grazie.